Per chi non mi conosce sono Taran Ahmadi, sono iraniana, persiana e vivo qua in Italia da tre anni. Probabilmente molti di voi quando vedete una notizia brutta lo schippate, anche io lo faccio come prima persona. Ma stavolta mi sono fermata, perché potevo essere io quella ragazza che hanno ucciso. Mi hanno arrestato quando avevo 16 anni in Iran a causa del mio hijab. Sono 44 anni che la mia gente sta protestando per la libertà. Ogni volta viene picchiata, arrestata, uccisa. Ora basta, l'abbiamo avuto abbastanza. Non vi chiediamo i soldi né il cibo. Abbiamo solo bisogno di essere sentiti. Vi prego, siate la nostra voce. Grazie.